Ciao a tutti, rieccoci in un nuovo video, oggi è venerdì, domani si va in moto, devo preparare un po' tutta la roba e domani l'ultimo allenamento prima dell'ultima gara stagionale che anche quella vi porterò sul canale Scusate se la qualità non è il top come negli altri video ma non ho la GoPro ora e quindi dovete accontentarvi delle clip col telefono Ora preparo tutto e poi ci vediamo direttamente domani, domani kit da gelataio ed esco Sabato mattina siamo in partenza per andare a Sanda Arrivati in pista, sto facendo una corsetta di riscaldamento e sono qua nel bosco Poi mi preparo e andiamo, la pista sembra davvero bella come al solito, tenuta perfetta, infatti è una delle mie piste preferite Faccio il riscaldamento, mi vesto ed entriamo Chiamato mattina Faccio il riso Sì Quico Il riso Faccio che Le Lan Grazie a tutti. Ho appena finito una manciuta mezz'ora, è andata abbastanza bene, la pista è perfetta, un biliardo, ancora un pochino bagnatino, un po' scivolosa, però bella, top. Ora pausetta e poi si rientra. Grazie a tutti. 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 un prossimo video